Presidente, a parte gli sponsor, c'è la possibilità di coinvolgere, sensibilizzare anche altri imprenditori? Certo, noi stiamo cercando di sensibilizzare tutti quelli che hanno a che fare con lo sport, anche perché c'è questo problema di fondo. Molti imprenditori non si rendono conto della potenzialità reale allo sport. Io voglio solo ricordare che ancora ci ricordiamo, si ricorda la Covergins che sponsorizzò il Roseto nell'82, si parla ancora della Gis, si parla della Sicivondole, cioè si parla ancora di quelle realtà che hanno sponsorizzato la squadra e che è andata in giro per tutta Italia a portare questo marchio e a farlo riconoscere a tutti. Noi adesso sensibilizzeremo anche l'amministrazione comunale e anche la regione Abruzzo. Vorremmo riprendere quel progetto di 15 anni fa, in cui l'Abruzzo sponsorizzò tutte le squadre che partecipavano ai massimi livelli dei vari campionati. Stiamo cercando di coinvolgere anche altre realtà sportive, perché penso che portare in giro il nome dell'Abruzzo, di Roseto e anche come promozione sia un altro ritorno economico per la città e per la regione. Le faccio l'ultima, blindata la salvezza, la squadra è in piena zona play-off, si può fare? Noi ce la giochiamo tutta, a partire da domenica, perché tutti ci danno spacciati a Treviso, ma noi abbiamo combattuto contro Bologna, abbiamo perso i tempi supplementari, a Verona tre tempi supplementari, noi giochiamo le partite con tutti. Siamo in grado di vincere con tutti, però la squadra è anche giovane, per cui potrebbe anche perdere con tutti, quindi alla fine... Però mai dire male, bello dello sport. Quello assolutamente.